Per nulla, a terra, girate sto coso qua, allora man mano che si srotola per favore siete pregati tutti di ripetere quello che c'è scritto sullo striscione perché questo noi chiediamo ad Alta Voce prima di ogni altra cosa, forza, se non ci va allargatevi un altro poco Bene, mettiamola a terra, mettiamola a terra, vai Michele, è questo che noi chiediamo prima di ogni altra cosa, chiediamolo insieme, forza, rispetto per il Molise Per il Molise, per il Molise, per il Molise Allora, io parlerò pochissimo perché non ho alcuna intenzione e perché noi fra un'ora esatta dobbiamo scomprare questa piazza e Emilio Izzo quando dice che fra un'ora si sgompe, poi ci portiamo chi vuole alla spicciolata e chi deve fare shopping, chi vuole ci segua, gli dicevo la salute Per il Molise, per il Molise, per il Molise, per il Molise Per il Molise, per il Molise, per il Molise Grazie. 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 Permettetemi fermi. E noi, noi, adesso parlo jeera, adesso parlo con noi, noi ci intendiamo tutto quello che il Contino ci sta lasciando, un peso troppo enorme, un peso che non si può mantenere. E allora... Esistiamo sì o no, esistiamo sì o no, esistiamo sì o no, esistiamo sì o no, esistiamo sì o no. No